Adesso ce ne andiamo con un super classico Siete pronti? Ecco perché per questa ragione porrò assumendome tutta la responsabilità politica all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri la mia proposta di revoca della nomina al sottosegretario del senatore Siri. Una domanda almeno? No, non c'è una domanda. Per il senatore si è stato il giorno di intercambio. La procedura è la procedura e lei ha detto, va benissimo, c'è un solo problema. Che Siri entra in questo governo con la buona... Voi non ha il suo problema, nebbiamo tanto che la buona. No, non ha il problema. Non ha il problema, non ha il problema. Ma è una conferenza stampa? Si, non è corretto! Non è corretto! Non è corretto! Non è corretto! Grazie a tutti.